Noi abbiamo perso tempo utile, che in un periodo come questo è tempo vitale. Se oggi siamo in queste condizioni, lo dobbiamo una maggioranza che ha trascinato un'agonia e soprattutto ha procrastinato questa agonia facendoci assistere a un teatrino che avremmo voluto. E ve lo dico non perché faccio parte dell'altra parte politica, perché tutti noi cittadini mi hanno detto ma se non c'è, non c'è, punto, è inutile che andiamo avanti. Così Luca Zaia commenta la crisi di governo, l'incarico accettato con riserva da Mario Draghi, figura istituzionale, dice di alto livello e riconosciuta in tutto il mondo, ma che si trova di fronte due ostacoli. Io penso che sia fondamentale dire che ci sono due fasi, la fiducia, che non può prescindere dalla seconda fase che è quella della progettualità. C'è un tema di progettualità ed un tema di durata di questo governo, poi aggiunge. Poi uno dice bisogna essere responsabile e responsabile, noi siamo sempre responsabili, ma la responsabilità deve essere nell'indole umana, ma non la follia di andare sul crinale di un borrone. Quindi tutto dipende da cosa dirà il dottor Draghi alle forze politiche. Altrimenti l'unica soluzione è andare al voto perché il popolo resta sovrano. Sulla scelta di Renzi il presidente non ha dubbi. Penso che sia stata una manovra improvvida, no? L'unica cosa che noi cittadini in questo momento non volevamo erano i casini. Se il punto di caduta era quello di sfasciare tutto, diciamo che gli va dato 10 elode perché c'è riuscito. E che di mezzo ci sono un sacco di problemi sociali. La politica ha tenuto banco questa mattina, ma Zai ha ricordato che dobbiamo fare i conti con una pandemia che non ha precedenti. Ha riferito sui dati sulla diminuzione della pressione ospedaliera, soffermandosi sul crollo della curva. Da primo di gennaio la curva inizia a crollare, ma è inverosimile che l'impatto sulle terapie intensive che crollano il primo di gennaio sia data da una restrizione che è avvenuta sei giorni prima. Fra l'altro nel Veneto l'indice R con T non prevede al momento un passaggio di zona. Venerdì la nostra regione dovrebbe rimanere nella fascia gialla. Ed un'altra buona notizia arriva sui test Fai da te. Completata, io ho visto le carte da Rigoli proprio domenica mattina del tema della validazione del tampone Fai da te. Adesso le carte verranno finalmente mandate a Roma. Per arrivare a questo risultato è stato effettuato uno studio multicentrico che ha visto il coinvolgimento di Trento, Bolzano, del Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. Per testare in più centri questo Fai da te.